Un vero e proprio cartello che agiva anche secondo modalità mafiose ed episodi di corruzione che hanno visto protagonisti tra gli altri imprenditori del settore marittimo e pubblici ufficiali dell'Unità Operativa Dirigenziale del Trasporto Marittimo e del Demanio Marittimo della Regione Campania. È quanto emerso dalle indagini della Guardia Costiera di Napoli che, coordinata dalla DDA, ha notificato oggi nove arresti ai domiciliari e due obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Per quattro dei nove arrestati è stato disposto dal GIP di Napoli anche l'obbligo di presentazione. Gli undici indagati sono gravemente indiziati di corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, illecita concorrenza con minaccia o violenza. In particolare le indagini hanno consentito di delineare l'esistenza di consolidati rapporti tra imprenditori del settore marittimo e pubblici ufficiali dell'Unità Operativa Dirigenziale del Trasporto Marittimo della Regione Campania, accordi inerenti a varie concessioni demaniali rilasciate o prorrogate dall'ufficio e dirette ad alterare o turbare le procedure utilizzate per la scelta del concessionario e più in generale la gestione dei rapporti tra l'ente pubblico concedente e i concessionari, tutto in cambio di denaro e di altre utilità destinate ai pubblici ufficiali da parte degli imprenditori.